Scusa, ma perché stamani stiamo allestendo con tutto questo verde? Perché è Eco Bio, la linea tutta al naturale. Eh sì, e magari è naturale anche il profumo. Al cento per cento. E vorresti dirmi che è anche un prodotto vegano. Ovvio. Voi non mi avete visto! Linea Eco Bio. Per il rispetto dell'ambiente, cento per cento la vita. Per il rispetto della natura.